Oggi ho scelto una domanda a cui rispondere che mi è stata fatta nel video passato, ve l'avevo detto che avrei preso una delle domande varie e lo farò spesso e volentieri anche perché questo mi aiuta anche ad aiutarvi a crescere nel vostro percorso di self-publishing e la domanda è quella di Gundam che saluto che mi dice Quindi, questo è un problema comune, sono d'accordo con questa cosa qui anche perché è un problema che molte persone hanno, Un problema che deriva da diversi punti ma andremo a vederli nel dettaglio proprio a video Prima di iniziare proprio con il video ti ricordo di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto, di lasciarmi un like per supportarmi, commenta qui sotto se hai qualche domanda a cui potrei rispondere, vado a selezionarne qualcuno ovviamente nessuno si offenda se non prendo la sua perché non posso rispondere sempre a tutte le domande Ho anche una scaletta di video da portarvi di alto valore per il futuro però quando ho dei buchi e quando riesco cerco di rispondere anche alle vostre domande Prima di iniziare vi ricordo anche che sotto al video trovate un link o vari link per seguirmi sui social e iscrivervi alla lista di attesa per entrare nella mia scuola di self-publishing Allora per fare un esempio pratico oggi quando andremo a fare proprio un'analisi pratica di come capire quantomeno che cosa stiamo facendo perché è importante sempre capire cosa stiamo facendo e non fare le cose a pappagallo e ripetere i processi a pappagallo Procedimenti a pappagallo senza aver capito che cosa si sta facendo Tra l'altro piccola introduzione anche su un problema che potrebbe esserci, ho la telecamera ancora che ogni tanto salta quindi potrebbe essere che mi vedete con la faccia bloccata non importa perché poi si sblocca in automatico Ma la cosa importante è che seguite e capite bene l'argomento che stiamo andando a trattare Quindi abbiamo un problema in cui la persona sta pagando molto di più le azze addirittura sta spendendo il triplo rispetto a quello che è in casa quindi spende 300 per fare 100 Molto molto male dovrebbe essere il contrario spende 100 per fare 300 almeno in realtà dalle azze dovremmo andare ad incassare solo per quel che riguarda le azze il triplo rispetto a quello che investiamo Quindi se io pago 100 in azze devo fare 300 con libri venduti solo dalle azze e questa deve essere una regola tutto il resto e tutto l'extra è quello che deriva invece dall'organico Quindi non rispendo 100 per fare 300 con le azze e faccio magari altri 300 con l'organico Però il processo, in realtà il problema principale, il processo che andremo a vedere dopo è che spesso quello che andiamo a fare e quello che vanno a fare le persone L'ho già spiegato in un video precedente, è andare in una nicchia gigante, ok? E cercando di aggredire direttamente la parte grossa del mercato In questo caso facciamo un esempio con un coloring book Adesso io ho l'estensione di Helium 10 Quella del... oh io te lo dico eh, se non hai messo like al video ancora mettilo perché se no a Natale non vai manco un euro e probabilmente nemmeno durante l'anno Quindi questa è la iella che sta arrivando, metti like perché se no non guadagni niente Quella del pacchetto da 99 dollari che mi permette di vedere i volumi di ricerca direttamente qui è molto comodo ma in realtà non è necessario, non è fondamentale Io vi consiglio, consiglio sempre a tutti di far solo Cerebro e l'abbonamento alla carta Cerebro, lo farò vedere magari in un video successivo Però fondamentalmente questo mi permette di vedere subito i volumi di ricerca per le keyword senza dover andare a fare la ricerca direttamente delle keyword stesse tramite Cerebro, ok? Poi ovviamente io Cerebro lo utilizzo stesso, lo utilizzo sempre di un tool fondamentale Magari faremo anche un video sui vari tool che servono e bisogna utilizzare, in realtà sono solo due, né più né meno Quindi mettiamo che io cerco un coloring book e al posto di andare for adults adesso ipotizzo che il nostro amico che ha commentato abbia fatto un coloring book for kids Il problema qual è? Che coloring book for kids in generico ha un volume di ricerca molto alto perché comunque attualmente è a 9000 mi sembra di aver visto da prima Però ci sono 50.000 risultati, questo vuol dire che non riusciremo mai a comparire quando si tratta di risultati così grandi Quindi quello che possiamo fare è fare un niche down e quindi vedere che ad esempio coloring book for kids ci viene suggerito ad esempio qui Agis48 che va già a 10.000 quindi c'è già un quinto della competizione Perché questo? Perché andiamo a fare quello che è proprio il concetto base del publishing Cioè noi pubblichiamo qua, cioè questo qua è la nicchia gigante, ok? Quella del coloring book for adults, vediamo se riesco a fare un disegno un po' più grande anche per rendere le dimensioni Però l'obiettivo non è andare qua, l'obiettivo è prendere e scendere Scendere ai 4-8 ad esempio, ok? Vediamo se non riesco a usarla bene sta roba però vabbè, perdonatemi, giusto per passare il concetto Quindi scendiamo ma non solo, non ci accontentiamo di questo da qua, dai bambini 4-8 Magari scendiamo e andiamo solo 4-8 maschio Ed è 4-8 maschio che è l'abbassarsi ancora, andare ancora a fare niche down Andiamo a fare, non lo so, un coloring book per bambini 4-8 con, non lo so, con gli squali, ok? Quindi facendo questo lavoro qui, noi cosa andremo a fare? Andremo a scendere nella nicchia sempre di più, sempre di più, sempre di più Al punto tale che troveremo ovviamente meno ricerca Perché più andiamo nello specifico e meno, generalmente ricerca c'è Ma ci sarà anche molta meno competizione Ci saranno molti, molti meno libri qua che competono con noi Mettiamone tre Rispetto a qua che sono i bambini maschi di 4-8 anni, ok? Che sono ancora meno dei bambini 4-8 anni Che ovviamente sono ancora meno a livello di prodotti competitor Rispetto ai bambini e basta, ok? Questo è un concetto molto molto importante Anche perché quello che vedo spesso è che le persone Quando fanno questo tipo di libro, ok? Cosa fanno? Vanno a sponsorizzare per questa keyword qui Per questa keyword qui E anche per questa keyword qui, ok? Quando partiamo noi dobbiamo aggredire sicuramente La nostra keyword principale a livello di ads E al massimo la keyword sopra Perché? Perché se non ci siamo posizionati ancora per questa keyword Non vendiamo ancora per questa, è impossibile Che andremo a vendere per questa E soprattutto queste qua generalmente Sono keyword che ci costano 2 dollari di budget Almeno a livello di bid Questa è un dollare 50 Adesso, vabbè, sto sparando più o meno cifre Che non sono esatte Perché dipende ovviamente Forse il coloring book for kids Addirittura siamo molto più alti dei 2 dollari Però è importante capire Il concetto che più andiamo in basso anche E meno andremo a pagare Per quel che riguarda i vari costi di bid E soprattutto riusciremo a gestire molto meglio le ads Perché il problema è che se io faccio 4 click qua Ok? Se io vado a fare Vediamo un po' se riesco a Se io vado a fare 4 click qua Ok? Questi 4 click che sono molto più in target Qui, ok? Nella parte bassa Nella parte del coloring book for kids 4.8 Con gli squali ad esempio Sono molto più in target E il mio prodotto è molto più in target Rispetto a questo qua A coloring book for kids generico Che soprattutto mi costa 4 volte di più A livello di bid Ok? Perché? Perché ci sono molte più persone Che vanno a biddare sopra E vanno a fare le ads sopra quella keyword Per cui rankeremo Ma quando è che rankeremo? Quando inizieremo a vendere qua E poi inizieremo a vendere qua E poi inizieremo a vendere qua E così che funziona il publishing Non potete pensare Di fare questo tipo di libro qua Ok? Che è l'ultimo E la parte più bassa Della catena Che è giusto E che in realtà Molti non arrivano nemmeno a fare questo Spesso si fermano più in alto Ok? E non potete pensare Di partire da qua Però facendo le ads da qua sopra Perché? Perché voi non state ancora vendendo Per questo tipo di target qua Adesso mi si è piantato il mouse Non state ancora vendendo Per questo tipo di target qua Ok? Non state vendendo per il vostro target E quello che effettivamente È la vostra keyword È il vostro libro Ok? E quindi se non state vendendo lì E non siete posizionati lì Non potete Proprio a livello di business Non ha senso Andare a spingere per il resto Perché? Perché il resto È un mare Di persone Che vanno a spingere Se voi non avete l'organico Che vi sostiene Nella parte bassa E quindi non state già guadagnando 10, 15, 20, 30, 40 euro Al giorno da quel libro Non potete andare a spendere 2 dollari a bid Che magari fate 10 click Avete speso tutto il vostro budget Ok? Anzi L'avete speso quando siete a 40 dollari Ma agli inizi Che magari siete a 5 dollari 10 dollari al giorno Di guadagnato con un libro E molti purtroppo Non arrivano nemmeno a questo Ma proprio per questo motivo qui Non potete pensare In andare a spendere 20 o 30 di ads Ok? Il publishing è un processo Che va fatto a fasi E serve scaglionare le cose Serve pazienza E serve soprattutto Capire che cosa si sta facendo Quindi Il mio consiglio qui È di andare a fare questo Benedetto Niche Down Che è quello che vi dico Sempre da sempre Cioè Guardate questa persona qua Che sta Ad esempio Questo qui Sta comparendo 436.000 in libri Ok? 436.000 in libri Sta bidando per Coloring Book for Kids Ages 4.8 Che è una keyword Che ha 10.000 Di risultato di ricerca Se io adesso vado A vedere Vediamo se Erano un cerebro Ce lo dà Facendo Erano un cerebro Noi possiamo andare a vedere Ovviamente Tutti i dati E quello che voglio fare adesso È ordinare Per posizione sponsorizzata Tra l'altro Anche qui Vi consiglio di rubare Il mio setup Per quello che riguarda Cerebro Perché non vi serve Avere 200.000 dati Di cerebro Non vi serve Avere il QI Non vi serve Avere tantissime robe Che ci sono lì in mezzo Che spesso vengono Anche consigliate Dalle persone Che in realtà Sono inutili Cioè Anche qui il publishing Non è più Più tool utilizzo E più Sono preciso E quindi sono più forte No Il publishing è due tool Con pochi settaggi Ma che sono quelli importanti E che ci servono Adesso vediamo Se me lo carica Se non me lo carica Amen Quello che volevo farvi vedere È proprio Il fatto che Vediamo se Di caricarlo Perché così almeno Vi faccio vedere Copiamo direttamente l'asin Perché Dicevo Il concetto importante È utilizzare Poche cose Ma che funzionano Al posto che stare in un mare Di roba Di tool Che servono Sì Ma se non si è Di quello che si sta facendo E se non si capisce Quello che si sta facendo Non si va Da nessuna parte Ok Vediamo se Me lo trova Riesce a caricare Non so perché va Così a rilento Perché generalmente Ok Ci siamo Questi sono i dati Che ci servono Volumi di ricerca Trend di volume di ricerca Per farci capire Se è un trend in salito O in discesa Gli asini sponsorizzati I prodotti concorrenti La posizione sponsorizzata E la posizione organica Cioè guardate questo libro Ovviamente Cerebro ordina sempre Per Per posizione Organica Ok Questo libro qua Non arranca per nulla A livello di posizione organica Probabilmente Perché è uscito da poco No Non è uscito da poco Perché ha già 27 recensioni Comunque Chiedo scusa al publisher Ma 10 novembre 2023 Addirittura Quindi questo libro È uscito da tantissimo E nonostante questo E 430.000 in libri Non sta arrancando per nulla Cioè non ha mai venduto Ha fatto qualche vendita ogni tanto No? Ma soprattutto il publisher Sta sponsorizzando una keyword Che è Se ordiniamo per posizione sponsorizzata Column in book for kids Ages 48 Ci sono 598 asini sponsorizzati Vuol dire che ci sono 598 publisher Che stanno sponsorizzando il loro libro Per questa keyword E questa keyword va a costare Veramente Veramente Tanto Ok Quindi E soprattutto C'è prodotti concorrenti 20.000 Ma quello che è assurdo è questo E guardate la posizione organica Di questo libro Per questa keyword 125 Questo perché? Perché probabilmente Adesso vediamo Se l'ha utilizzato No L'ha anche utilizzato Boys and girls Ages 48 Però Purtroppo Non vende Non vendendo E non vendendo per la keyword Non ottiene risultati Quindi qui È una follia Cioè sì Stiamo sponsorizzando In una keyword Che ha altissimo volume di ricerca Ma Ha talmente tanti asini sponsorizzati Soprattutto il libro Non è che ha tanto margine Perché Avrà 3 dollari e 50 Vuol dire che Ogni due Ogni due click Bisogna fare una vendita Per questa keyword Cosa molto molto improbabile Quindi Il mio consiglio qui È di capire Dove state pubblicando E di cercare di fare Niche down E di diventare Più specifici Possibili Per il vostro prodotto In modo che venga trovato Dalle persone specifiche Che vi stanno cercando E poi lì Si va A salire Ok Io continuerò comunque A leggere i vostri commenti E cercherò di rispondere Quando mi è possibile In base anche Al mio scheduling Dei vari video che ho Vi ringrazio per avermi seguito In questo video Mi raccomando Riguardatelo Perché ci sono dei concetti Che sono veramente importanti In ambito di publishing E noi Ci vediamo al prossimo Ciao da Andrea Biancolli